ciao come state spero bene continuiamo a parlare di emozioni è arrivato il momento di parlare della nostalgia proprio quella che abbiamo sentito in questo periodo di lockdown quando dovevamo stare isolati in casa avete abbandonato la scuola e maestri compagni le vostre attività di sempre come ci saremo sentiti non tanto bene molto male penso ecco qua guardiamoci allo specchio facciamo prendiamo il nostro solito foglio bianco disegniamo la nostra figura e quindi cominciamo a fare tutte le freccette che indicano come sta come stanno tutte le parti del nostro corpo pensieri molto tristi bui tenebrosi pessimisti il cuore triste chiuso come in una gabbia la pancia in subbuio le gambe non riescono a camminare non possono correre non possono fare quello che vorrebbero fare devono stare ferme in casa quindi c'è tutto l'organismo che sta un po bloccato guardiamoci allo specchio ripensando a quei momenti e vediamo di fare un bel disegno qui accanto io ho messo sempre il foglio per fissare alcuni pensieri ricordo quella volta in cui ho provato la nostalgia eccola qua poi un'altra emozione è il coraggio dopo la nostalgia adesso prendo coraggio mi organizzo ecco qua disegnate qui è stato disegnato una bella bimba tenuta sportiva con la speranza di correre andare in giro vedete pantaloncini corti scarpe comode pensieri creativi positivi costruttivi c'è tanto coraggio di affrontare il mondo che mi aspetta anche qui il foglio per scrivere i nostri pensieri altre due emozioni eccole qua sono la rabbia ero proprio arrabbiata questo periodo siamo stati un po tutti arrabbiati e questa bimba addirittura ha fatto il cuore fuori dal corpo pieno di freccette qui quindi proprio era proprio arrabbiata uscivano da tutte le parti queste queste emozioni così forti e il corpo è diventato piccolo piccolo si è impicciolito non riesce non riesce ad esprimersi come vorrebbe talmente è concentrata la rabbia quindi anche qui mettiamo tutte le parti del corpo come si sono sentite come si sono mosse rispetto a questa emozione qui un'altra emozione che ci fa sentire un po meno male però sempre un po tristi è la delusione siamo stati delusi da un compagno che non arrivava da un regalo che non arrivava quindi è la delusione anche di dover lasciare per esempio i nostri compagni ci hanno detto in televisione da domani non si va più a scuola immagino quanta delusione avremmo provato abbiamo provato perché io non ci dovevo andare a scuola e quindi ecco eccoci qua anche questo da fare un bel disegno e arriviamo alle ultime due emozioni che sono quelle che ci fanno star bene per augurarci un buon rientro alla vita normale il benessere e la speranza la speranza la dobbiamo avere pensare che a settembre andremo a scuola anche se avremo degli accorgimenti dovremo portare la mascherina rispettare le distanze però è tutta un'altra cosa vedersi e poter parlare insieme stare insieme e quindi questa speranza ce la dobbiamo avere nel cuore ecco qua l'ultima emozione poi vi ricordate le buste che vi avevo detto di usare dovevamo prendere sette due cinque sono servite per mettere i sensi per mettere le paroline e il i piccoli testi che avete fatto riguardo ai sensi qua invece mettiamo le emozioni che ci fanno star bene e le emozioni che ci fanno star male abbiamo fatto due belle buste e dentro ho messo sia i bigliettini colorati con tutti i nomi delle delle emozioni qui ne potete mettere quante le volete poi ho messo anche dei piccoli foglietti eccoli qua sia doppi che singoli così in modo da fermare i nostri pensieri fare dei piccoli pensieri tutte le volte che ho vissuto un'emozione se sono emozioni che mi hanno fatto star male le metto nella sua busta nella busta di riferimento se mi hanno fatto star bene le metto qua da quest'altra parte e poi faccio una bella cornice per abbellire questa pagina le avete fatte le cornici anche dei sensi vi ricordate che ve l'avevo detto adesso vediamo io mi sono organizzate in questo modo eccole qua alcune le ho colorate disegnate con dei fiori con delle delle linee spezzate così altre ho preso dei pezzettini di carta velina a forma di luna a qui ho preso dei pezzettini di carta con le figure geometriche poi le stelle ho messo la luna e mi sono un po' sbizzarrita qua ho messo sempre pezzettini di carta per abbellire tutte queste paginette in modo da formare un bell'album tutto intero quest'album finito adesso lo chiudo vado a trovare la prima pagina eccolo qua vedete come è diventato le 10 pagine sono finite le potete avvolgere come volete fino ad arrivare eccola qui la prima pagina la folderina ve lo ricordate il mio percorso di vita è veramente qua dentro c'è un percorso di vita molto importante tante opportunità da colorare quindi più è colorato e più rispetteremo il titolo che c'è scritto davanti eccolo qua la prossima volta vi aspetto per fare lo scrigno i due scrigni della emozioni che mi fanno star bene e quelle che mi fanno star male vi aspetto per l'ultimo incontro ciao a presto vi aspetto e vi aspetto vi Aspetto vi Aspetto Grazie a tutti.